Partiremo assai rapidamente, penso già da gennaio, tutti insieme per fare un percorso importante per la città. Stop alle discussioni sterili. Finita la bagarre delle primarie, Otello della Rosa chiama raccolta tutto il centro-sinistra attorno al suo nome. Stiamo già lavorando insieme su tante cose, quindi non è un problema assolutamente. Con il nuovo anno vuole che la macchina sia pronta a partire per la corsa elettorale. Ruoli e accordi si faranno semmai dopo aver vinto, ma Otello della Rosa apre già i contendenti battuti alle primarie. Giacomo Possamai e Jacopo Bulgarini. Sul ruolo di Giacomo, sul fatto che debba essere valorizzato, sono il primo a dirlo perché ha dimostrato capacità e competenza. Ho parlato anche con Jacopo e stiamo cercando di ragionare insieme sull'idea di città e sicuramente anche lui dirà la sua in questo percorso. Il lavoro della coalizione di centro-sinistra con il nuovo anno sarà quello di mettere insieme le idee proposte alle primarie per farle diventare un programma robusto da proporre alla città. I quartieri, come abbiamo fatto in questa fase, vanno ascoltati, vanno resi partecipi di una serie di scelte e di decisioni da cui deve uscire il programma finale per la città. E quindi io credo che, se posso usare uno slogan, da gennaio in poi si torna in strada. Come abbiamo fatto prima, torneremo a fare dopo.